e salve ragazzi meritati questo nuovo video sono blitz e oggi continuiamo una serie di sonic advance con il nostro personaggio più facile da usare tails poi ma niente o uno scudo magnetico quadro 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 che non scudo magnetico ma come ho fatto ma nanti potrà morire affogato penso che sono morto affogato già fatto adesso che sono tenero nell'acqua oh mio dio ci vogliono subito salvo qua ci sono soltanto andiamo ci sono ci sono soltanto e sto provando a volare tutta la montagna questo livello di ghiaccio c'è un po' troppo acqua no come sto per morire alla fine dai ce l'ho fatta la prima parte del quarto livello ce l'ho fatta questo livello di ghiaccio sta bene al nome del canale e al nome di un fratello questo livello di ghiaccio c'è un po' troppo pesci no no mannaggia ci muoio ci sono morto evviva ci sono morto evviva questo livello di ghiaccio c'è un po' troppo pesci perché mi sono fermato perché mi sono fermato ok sto aspettando di riuscire al boss fight questo livello di ghiaccio c'è un po' troppo pesci troppo lento questo livello di ghiaccio questo livello di ghiaccio c'è un po' troppo pesci c'è un po' troppo pesci capito una cosa non posso colpire l'ora da giù c'è un po' troppo pesci c'è un po' troppo pesci sto per perdere all'ultimo colpo mi salvo qua c'è un po' troppo pesci c'è un po' troppo pesci c'è un po' troppo pesci che sto facendo un camaleonte se lo diceva una fatale che c'è il camaleonte in questo gioco in questa parte di gioco questo è bello il livello 5 bello il tempio come un tempio perduto ma c'è un po' troppo animali c'è il volante che volano volatis mannaggia dove sto volando un po' come stanco e anche ne sapevo che c'è una trappola qua io povero che meronze let's go mannaggia mannaggia andiamo non mi devo che sono morto così bella cosa c'era il vuoto no parte tutto da capo no mannaggia vedo io schifo start dico ragazzi per questo episodio è tutto vi ho fatto un po' vediamo uno spalle del livello 5 insieme a al tails finiremo la zona 5 livello 5 e ci vediamo al prossimo episodio ciao 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 ciao